Buongiorno, oggi parleremo del bambino e del rapporto speciale che lo lega alla madre. Il bambino fin dalla nascita affronta un percorso caratterizzato da un progressivo incontro con la realtà, in modo sempre più autonomo e indipendente. Questo percorso è graduale e il compito della madre è quello di offrire gli strumenti necessari per supportare la naturale progressione del bambino verso l'autonomia. Alla nascita il bambino non esiste come individuo, ma è membro della coppia madre-bambino, perciò è fuso con la realtà esterna, perché è inconsapevole dei confini che separano ciò che sta dentro di lui da ciò che sta fuori. Chiariamo subito che per il suo corretto sviluppo il bambino non ha bisogno di una madre perfetta, ma ha bisogno di una madre buona, che si adatti ai suoi bisogni e infatti, malgrado il bambino possieda un potenziale innato per svilupparsi, senza una madre sufficientemente buona che si prodighi nella cura del figlio, questi non sarà in grado di divenire una persona indipendente. Piano piano, grazie alle cure della madre, il bambino inizia a comprendere che esiste un mondo esterno. Durante questo passaggio il bambino si avvale spesso di quello che Winnicott definisce oggetto transizionale, cioè quell'oggetto che accompagna il bambino nel distacco dalla madre, offrendo una alternativa intermedia tra la madre e la totale assenza della madre. Tipicamente si tratta di un gioco o di una coperta che il bambino porta sempre con sé. L'oggetto transizionale si inserisce nello spazio potenziale e intermedio tra madre e bambino. Questo oggetto dà inizio ad un'area di esperienza che mantiene correlate la realtà interna e la realtà esterna. L'uso che il bambino fa del suo oggetto transizionale rappresenta il primo uso di un simbolo che diventa la sua prima esperienza di gioco. Il gioco risiede proprio nell'area transizionale che è in relazione sia con l'interno della psiche che con la realtà esterna. Ma la cosa importante è che il gioco nasce dal rapporto di fiducia del bambino nei confronti della madre. Così succede che attraverso un atteggiamento ludico verso il mondo il bambino può sviluppare la sua creatività che gli consentirà di conoscere se stesso, di essere cioè a contatto con il nucleo più profondo del proprio sé. Le principali caratteristiche del gioco sono una assorta partecipazione in uno stato di quasi isolamento, il gioco implica fiducia nei confronti dell'ambiente e la capacità di stare da solo. Il gioco coinvolge il corpo ed è qualcosa di soddisfacente. Nel gioco i bambini riescono ad essere creativi usando la loro personalità e scoprendo se stessi come persone autonome, quindi persone intere e diverse dagli altri. Il bambino e l'adulto che vivono creativamente giocano entrambi, anzi, possiamo dire che la vita culturale dell'adulto nasce proprio dall'area intermedia della creatività, in quanto la creatività è costituita dalla modalità che ha l'individuo di incontrarsi con la realtà esterna. La creatività è universale, appartiene al fatto di essere vivi e non può essere mai del tutto annullata. Anche nei casi più estremi di false personalità la creatività può restare nascosta e questo viene a determinare la sofferenza tra il vivere creativamente e il semplice vivere. Ora, vediamo cosa si intende per vivere e cosa significa sviluppo psicologico. Affinché si possa avere uno sviluppo psicologico sano ci vuole quella che gli psicologi definiscono una madre devota. Una madre devota. Nella madre devota si sviluppa una particolare sensibilità che le consente di fare la cosa giusta al momento giusto. In questa fase la madre si chiude nella relazione con il suo bambino, no? All'inizio. In un altro momento della vita questa potrebbe essere considerata come una condizione patologica, ma all'inizio, per la neomamma, si tratta di una situazione del tutto normale da cui ne uscirà soltanto quando il bambino le darà il via libera con dei segnali particolari. Una delle principali funzioni dell'io è l'elaborazione mentale di eventi sensoriali e motori che diviene successivamente la realtà psichica personale e che definisce la persona nella sua interezza e nella sua unità. Il processo per cui una persona si sente intera si chiama integrazione dell'io, o meglio della personalità. Il bambino si trova all'inizio della sua vita in uno stato privo di integrazione, quindi per raggiungere la sua integrazione saranno necessarie le cure di una madre appunto sufficientemente buona. Anche quando avrà raggiunto però questo stato, nel sonno il bambino tornerà alla non-integrazione e ciò costituisce la premessa per la capacità dell'adulto di sentirsi calmo, rilassato e capace di stare da solo, godendo della solitudine che inizialmente è data dall'assenza della madre. Quando c'è una precoce carenza ambientale, soprattutto nella fase della dipendenza assoluta, il bambino sviluppa un falso sé, che è un sé adattivo e compiacente. Tutto questo dipende principalmente dall'incapacità della madre di cogliere e di rispondere ai bisogni del bambino, il quale inizierà ad accumulare un insieme falso di relazioni e crescerà immaginando un mondo negativo, frustrante. Ora, una delle più importanti funzioni di una madre buona è quella di favorire il processo di integrazione dell'io del bambino attraverso il suo contenimento, il cosiddetto holding. L'holding sostiene l'io debole e immaturo del bambino e implica due processi. Il primo è proteggere il bambino da eventi traumatici e il secondo è prendersi cura del bambino rispondendo ai suoi bisogni. Questi processi permettono di acquisire un senso di fiducia nella madre e nell'ambiente più in generale, quindi nella realtà. Il bisogno di contenimento non è soltanto legato al periodo di assoluta dipendenza dalla madre ma ritorna nella vita di ognuno e ritorna ogni qualvolta si presentano situazioni particolarmente minacciose o stressanti. Una madre sufficientemente buona ha anche un'altra funzione, cioè chiamata handling, cioè manipolazione che si riferisce alla modalità di maneggiare il bambino. La madre è capace di tenere il bambino naturalmente e di tenerlo in braccio quindi in modo che tutte le parti del corpo siano raccolte per formare uno schema corporeo personale. All'inizio di questo processo abbiamo una dipendenza assoluta nella quale il bambino sa solo trarre vantaggio o può essere danneggiato dalle cure materne e non ha alcun controllo su queste cure. Poi abbiamo una dipendenza relativa nella quale il bambino si rende sempre più conto del bisogno di specifiche cure materne e le collega ad un impulso personale. Infine c'è l'indipendenza nella quale il bambino sviluppa dei propri modi per fare a meno delle cure materne attraverso per esempio ricordi di queste cure. Ma c'è da tenere presente che l'indipendenza non è mai assoluta in quanto l'individuo sano non si isola dall'ambiente ma interagisce in modo interdipendente. Per arrivare all'interdipendenza ogni individuo deve raggiungere tre obiettivi ovvero l'integrazione delle diverse parti di sé la personalizzazione attraverso cui il bambino esperisce il corpo come parte di sé e può sentire il proprio sé e infine c'è la relazione d'oggetto che permette di distinguere il sé dal non-sé e quindi la realtà interna dalla realtà esterna. Relazione d'oggetto significa relazione con gli altri. Bene. Per comprendere il senso di questo sviluppo e della vita stessa noi dobbiamo far riferimento al concetto di dipendenza dal materno che è un concetto importante. L'abbandono che viene vissuto dal bambino diventa un modello concettuale con il quale leggere lo sviluppo del bambino stesso. Il bambino che all'origine si trova in una situazione di totale dipendenza vive successivamente l'intensità distruttiva dell'abbandono. L'abbandono non costituisce un elemento di realtà. In pochi casi il genitore abbandona realmente il figlio ma l'abbandono rappresenta piuttosto una realtà psicologica quindi è una percezione soggettiva. Tutti i bambini che giungono fino ad un certo livello di maturazione vivono in sé questa esperienza dell'abbandono che diventa quindi un'esperienza universale. E anche successivamente nel periodo di maturità quando siamo riusciti ad instaurare legami sentimentali o di amicizia e abbiamo conquistato un'ottima posizione economica o sociale l'esperienza dell'abbandono è sempre presente e basta una piccola mancanza una telefonata non fatta e la sensazione di essere stati abbandonati riemerge in tutta la sua forza e rappresenta uno degli stati psicologici nei quali l'individuo è più vulnerabile e quindi maggiormente esposto alla sofferenza e all'ansia. Vedete, l'esperienza dell'abbandono è un processo vitale dell'esistenza e senza l'abbandono è impossibile giungere alla consapevolezza perché senza l'abbandono non abbiamo la possibilità di crescere e quindi di maturare come individui. Sperimentando la solitudine e soprattutto accettandola emotivamente noi collochiamo la nostra esistenza su un piano diverso. Nel momento in cui non ci illudiamo più possiamo dire di essere diventati veramente adulti. Dovete sapere che nella vita si è sempre soli possiamo avere rapporti entrare nella vita intima di un altro ma il senso stesso della vita coincide con una disperata solitudine che è incomunicabile con le parole. La mia verità interiore quella con la quale nutro me stesso non può essere trasmessa all'esterno. E quanto prima facciamo nostro questo principio fondamentale tanto prima si diventa adulti. una persona matura sa bene di essere sola e conserva sempre questa sensazione dentro di sé anche quando è diventata famosa ricca ed è circondata da mille persone e anche quando non avrebbe più nulla da chiedere al mondo. Questo sentimento fa parte della nostra cultura e connaturato alla nostra cultura. La nostra religione ci dà la misura di quanto questo sentimento si è radicato. Per esempio la tradizione racconta che Gesù che sarebbe il Dio nella sua veste umana al momento della morte esclamasse perché mi hai abbandonato? Perché esclamò qualcosa del genere? Perché si sentiva completamente solo? E questa immagine così pregnante riflette un'esperienza primaria la solitudine che abbiamo provato quando ci siamo sentiti abbandonati da nostra madre. Ad esempio c'è un autore che è Winnicott che nel descrivere la transizione dallo stato psicologico di dipendenza allo stato psicologico di abbandono usa un'espressione estremamente chiara e diretta dicendo che abbiamo la sensazione di cadere a pezzi il vissuto dell'abbandono si impernia proprio sul sentimento angoscioso di non avere più nessuno che ci contenga e quindi andiamo a pezzi allora noi dobbiamo sviluppare un'immagine interna che corrisponde ad una madre interiorizzata che ci abbracci proprio nei momenti più difficili le persone più disperate che arrivano a gesti distruttivi verso se stessi e gli altri probabilmente non sono riuscite ad integrare questa dimensione quando manca una persona che ci abbraccia l'unico sistema è quello di abbracciarci da soli pertanto è nel momento in cui sviluppiamo la capacità di contenerci dall'interno che possiamo opporci alla disgregazione della personalità che è sempre inacquato di fronte ad ogni frustrazione ora su questa base la terapia psicologica assume un senso nuovo in quanto la figura del terapeuta dovrebbe diventare qualcuno che rappresenta la dimensione interna del paziente cioè quella dimensione che il paziente non ha mai sviluppato l'introiezione di un'immagine che abbia funzione di contenimento e che dovrebbe riuscire a riportare l'equilibrio dell'universo di sofferenza del paziente parleremo quindi di guarigione nel momento in cui il paziente sarà riuscito a introiettare una immagine interna positiva in grado di abbracciarlo e di sostenerlo nei momenti di pericolo l'espressione cadere a pezzi tra l'altro rappresenta la situazione per la quale una persona non ha sviluppato dentro di sé questa dimensione materna che ha proprio il ruolo di contenere le parti scisse quando una madre abbraccia quando una madre a carezza tiene in braccio il bambino inconsapevolmente svolge una importante funzione di contenimento psicologico delle parti scisse della personalità e anche nel rapporto fra adulti viene mantenuto l'abbraccio che è un contenimento soprattutto nei momenti di frustrazione poiché in questo modo molto di più rispetto che al bacio si esercita un'opera di contenimento dell'altro ed è un gesto automatico che affonda le sue radici nel rapporto primario il contenimento però può essere compromesso dall'ansia o dall'inquietudine che sono sentimenti che il neonato avverte chiaramente ed è sufficiente un tremore della madre un momento di tachicardia perché l'esperienza del contenimento non consenta più il rilassamento e allora a mio parere la cosa importante è che la madre attraverso la propria identificazione con il neonato sappia che cosa sente il bambino e in questo modo sia capace di offrirgli quasi esattamente ciò di cui lui ha bisogno sul piano del sostegno e dell'ambiente in genere questo dà luogo ad un particolare atteggiamento che si chiama preoccupazione materna primaria la madre quindi all'inizio fornisce una sorta di illusione ma il suo compito allo stesso modo è quello di disilludere gradualmente il bambino il punto importante qui è rappresentato dal passaggio dall'illusione alla disillusione ora per concludere diciamo che la paura che in genere caratterizza la vita di tutti noi e dell'adulto neurotico e più in particolare la vita infantile non viene mai superata poi da adulti e si riferisce a dimensioni che non si è in grado di capire e quindi di confrontare e di esprimere in altre parole se non so dare parole alle emozioni che ho dentro non posso che provare paura paura di fronte ad una persona che per esempio mi suscita dei sentimenti provo paura se non riesco a mettermi in rapporto con il mio stesso mondo emotivo e rimango spaventato dalla possibilità di perdere il controllo delle mie emozioni quindi finisco per fuggire per evitare ma noi se vogliamo creare il mondo dobbiamo essere appunto nelle condizioni di farlo quindi compiendo una continua traduzione dall'interno all'esterno e convoiando i nostri stati emotivi non verso l'aggressività e la protesta ma verso il tentativo di capire nel più breve tempo possibile che il più grande atto di creazione consiste nel creare noi stessi noi veniamo veniamo al mondo per avere un progetto cioè l'impegno a creare la nostra vita la nostra strada personale questo impegno fondamentale è l'unico che ci possa far sopravvivere anche nelle condizioni più spaventose bene io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche per cui se volete richiedervi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo un messaggio del tipo come funziona la consulenza specificando il vostro nome e cognome e i vostri orari preferiti potete visitare anche il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video sono presente su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia inoltre vi informo che ho scritto 4 libri pubblicati soltanto su amazon sia in versione cartacea che ebook ebook al lupo a tutti